La Camera di Commercio ha investito in denaro liquido contante 2 milioni di Euro e ha dato disposizione al suo patrimonio immobiliare che ha somma quasi a 4 milioni e complessivamente praticamente noi siamo arrivati a circa 6 milioni, è un impegno importante, è un impegno in cui non ci crediamo, ci tengo proprio a dire che in Camera di Commercio abbiamo avuto l'unanimità di tutti i consiglieri di giunta in questa operazione con entusiasmo e convinzione, questo è importantissimo, è la prima volta che mi succede. Al di là di quanto abbiamo messo che come lei sa siamo all'interno di questa accordata con Emil Banca, quando Oscar Farinetti che in un qualche modo è l'idea insieme a Segredi questo progetto parla di artigiani del gusto, lei capisce che CNA non può non esserci.